Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il Pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra, Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, ho assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito, quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro, In verità, io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà, anche a quelli che saranno alla sinistra, Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato straniero, o nudo, malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro, In verità, io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore Oggi celebriamo la solennità di Cristo Re dell'Universo. È l'ultima domenica dell'anno liturgico, quindi concludiamo l'anno liturgico, il capodanno ecclesiale. Da domenica prossima, prima domenica d'Avvento, ricominciamo l'anno liturgico, dove ricominciamo a contemplare tutti i misteri della salvezza, di tutto quello che il Signore ha fatto per noi. Allora in questa festa, dove il Vangelo ci propone il giudizio, il giudizio finale, dove il Signore tornerà nella sua gloria e siederà sul trono della sua gloria e giudicherà. Il fatto che ci sia un giudizio è la prima cosa importante per noi, perché non è questione di paura, è questione di realtà, di concretezza. Il fatto che ci sia un termine e un giudizio ci dice che quello che viviamo è reale, è concreto nella storia, ma che la storia stessa ha il suo termine e che quello che noi viviamo non è a caso, non è il passare del tempo, un passatempo, ma ha un fine, un senso e che noi, in fondo, c'è stato rivelato in Dio tutto il suo senso, ma diventa per noi importante, perché se no il rischio è di vivere la fede come una consolazione del cuore, come un bisogno, perché la vita è difficile, perché per tutti ce n'è, sembra che nessuno sia escluso, ma davvero per tutti ci sono dolori e situazioni difficili di tutti i tempi e di tutti i tipi, però diventa così la fede una questione di consolazione. Invece il giudizio e la fine e il tempo dicono che c'è una realtà, una concretezza di quello che noi viviamo, che la fede è reale, e che la realtà stessa è reale, perché se no non sarebbe reale, per essere reale deve essere concreta, vera, devi avere un inizio e una fine, un perché, e avere anche un significato che ha in sé, e non è che glielo diamo a noi il significato, noi lo riconosciamo e lo accogliamo il significato, perché se no è come il virtuale, io decido quale foto può stare, quale realtà o quale immagine della realtà di me che voglio dare, non funziona così, la realtà ha il suo sé. Allora, quello che è questo giudizio, che diventa per noi anche entrare nel messaggio del Vangelo, che il Signore viene nella sua gloria, sul trono della sua gloria, noi quando sentiamo questi termini trono soprattutto ci viene in mente il potere, di chi ha potere, e il trono è il segno del potere, quindi anche la parola trono sta a chi è a capo di tutto, chi ha potere su tutto e chi domina su tutto, è vero, perché il Signore è Dio, ma il suo trono non è il trono come lo pensiamo a noi, come nelle fiabe c'è la regina cattiva che sul suo trono e tutti sono sottomessi, ma invece quello che già nella prima lettura il Signore ci comincia nell'Antico Testamento a rivelare qual è il suo trono è in queste frasi dove usa questo termine io stesso cercherò le mie pecore, io stesso le condurrò, io le farò riposare, questo io che conclude in un giudizio io giudicherò, ma questo io come colui che si coinvolge totalmente nel progetto io vado a recuperare le pecore non mando un altro come chi è sul trono che manda altri a fare fai tu questo guarda vai tu hanno bisogno vai tu invece io stesso lo farò io stesso mi coinvolgerò e questo coinvolgimento è tale che si mostra nella rivelazione nella passione di Gesù il coinvolgimento totale rivelativo di Dio è nella croce di Gesù dove nella sua carne ha patito questo io stesso le condurrò io stesso le recupererò questo coinvolgimento tale dove ha dato tutto se stesso si è fatto prossimo a noi al punto che ha dato tutto se stesso ed è diventato rivelativo della realtà quindi del giudizio e dell'amore di Dio a tal punto che Dio è quell'amore che si coinvolge fino in fondo a tal punto che si identifica poi in tutti i fratelli in tutti gli uomini e soprattutto nei più bisognosi di amore di misericordia perché nella croce Gesù rivela il totalmente coinvolto ma allo stesso tempo rivela come è la realtà da Dio voluta pensata e progettata per quello poi io giudico perché è nell'amore che giudica perché rivela come è la realtà il progetto di Dio che è un progetto di amore e il giudizio diventa su quella realtà rivelata per quello di quella realtà e la storia non è a caso non è virtuale ma ha un senso preciso non è opzionale faccio o non faccio l'opzione è nel dono della libertà del libero arbitrio ma la nostra piena libertà è quando aderiamo al progetto di Dio perché Dio ci ha fatto così perché noi stessi abbiamo un senso non siamo una scatola vuota che tu ci metti tutto quello che vuoi faccio quello che voglio di me lo puoi fare come dono libero ma non che tutto quello che fai è uguale non incide su di te perché Dio ci ha rivelato fino in fondo qual è il nostro senso e la realtà stessa è l'amore l'amore come di chi si coinvolge di chi dà tutto se stesso per gli altri nella croce è il massimo è il vertice di questa rivelazione di Dio e della realtà per quello diventa il giudizio di quella realtà lì quindi non giudizio come potere dominio sulle persone ma come autorità perché è rivelato che è l'amore il suo giudizio dove il suo potere perché lui per primo si è coinvolto quindi coinvolgimento è rivelativo e diventa proposta per tutti quelli che accolgono pensate la cosa interessante del Vangelo e qua ci dice anche l'aspetto dell'amore è che entrambi sia i benedetti che i maledetti i giusti o chi non è giusto non si accorgono di avere fatto tutto quello che hanno fatto a Gesù perché in fondo non è Gesù si coinvolge nel suo coinvolgimento al punto che si identifica ma non è che chi fa del bene o dell'amore che quindi come Gesù si coinvolge fino in fondo se stesso pensate al buon samaritano la parabola il sacerdote e le dita passano dritti il samaritano si coinvolge si fa prossimo lo porta alla locanda gli lascia appunto in totale che appunto che chi accoglie veste fa tutto lo fa non perché ha letto questo Vangelo ma perché siccome si coinvolge fa carico su di sé del compatire l'altro pensate in questo tempo di pandemia ogni giorno abbastanza il telegiornale racconta qualche storia di chi dà del suo tempo il medico che va dalla signora anziana che non può uscire e nessuno ci va quelli che portano da mangiare le mense chi ha chiuso il negozio ma piuttosto che buttare o rivendere dice no le metto a disposizione per i medici tutto questo coinvolgimento che però è reale concreto pensate che quando andrà di là non sarà come la parabola che il Signore dirà tu l'hai fatto a me e quelli diranno ma quando mai l'ho fatto probabilmente diranno anche ma io non andavo neanche in chiesa figurati se sapevo che lo facevo a te la carità come redentiva come la misericordia ti salva perché c'è una parabola che Gesù dice col metro con cui giudicate sarete giudicate se volete misericordia date misericordia quante parabole e l'amore è prima di tutto questo anche il coinvolgimento di noi stessi però nel dare al prossimo dove come Gesù lo patisci nella tua carne perché noi possiamo anche dire è poverino e poi non fare niente ci sono quelli che invece vanno a casa turbati non puoi stare a guardare devo fare qualcosa non solo te lo porti a casa dentro perché lo senti dentro nello stomaco che non puoi rimanere così indifferenti ma ti spinge a cercare di fare qualcosa questo si intende quando lo fai nella tua carne perché il tuo corpo non rimane indifferente perché la tua persona si coinvolge dentro e fuori e concretamente e perché tante volte la giustizia fa patire il voler bene fa patire come la passione di Gesù il vertice è quello che anima e corpo patiscono in Gesù dentro e fuori patisce il rifiuto e la solitudine e l'incomprensione del suo amore e dei suoi discepoli che non c'è più nessuno l'abbandono più totale e il corpo che soffre patisce il dolore fisico perché sta amando e così anche questo elenco di cose da fare non sono un elenco di cose da fare ma è la manifestazione dell'amore è l'integrità dell'amore perché pensate mi avete dato da mangiare e da bere perché ho avuto sete non sono le cose primarie necessarie di chi è povero e non può avere neanche la sussistenza ma poi pensate ero straniero e mi avete accolto non è la comunione con tutti i fratelli non è la questione di risolvere un problema sociale è la comunione con tutti i fratelli accogliere lo straniero e non è solamente l'immigrato l'istraniero è il diverso da noi è il diverso di noi che però è nostro fratello riconoscere l'altro come fratello quindi lo straniero in tutte le sue forme in tutte è accogliere la comunione dell'umanità è crescere nella comunione e poi nudo mi avete vestito non è messo insieme a mangiare e a bere che potrebbe essere come dire di nuovo un bisogno primario ma è più profondo genesi quando si scoprono nudi che si coprono con le foglie di fico perché? perché hanno perso quella dignità che il Signore gli aveva dato che il peccato gli ha tolto allora vestire le persone è ridare dignità alle persone come Cristo ha fatto con noi che ha patito per ridarci la nostra dignità di figli di Dio che ci ha rivestito della veste bianca la parabola della festa con la veste bianca nudo è colui che ha perso la dignità e che ha perso tutto e rivestirlo e ridare la dignità quindi tutte quelle forme di aiuto alle persone che ridanno la dignità che ridanno questo essere persona malato mi avete visitato ma l'apoteosi è nel carcere in carcere siete venuti a trovarmi chi va in carcere non ci va perché ha sbagliato porta ed è entrato in un luogo che non capeva è perché ha fatto del male ma l'apoteosi dell'amore il vertice dell'amore è il perdono il perdono come l'amore che vince il male come Cristo ha vinto e domina sul creato perché ha vinto il male con l'amore così la croce di Cristo regna perché ha vinto ha vinto realmente ma ha vinto con l'amore e così andare a visitare chi è in carcere è con la misericordia che dà vittoria sul male personale di chi si sente voluto bene vi ricordate la parabola di domenica scorsa quel talento cosa abbiamo detto che prima di tutto è sentirsi voluti bene in cui investi il talento chi è in carcere in fondo ha nascosto questo talento ma solo il sentirsi voluto bene gli dà quella forza e quella grazia di nuovo di rimettersi in cammino e di rinvestire il talento è il vertice dell'amore allora capite che tutte queste cose sono l'amore che cresce è la manifestazione dell'unico amore in cui mette al centro sempre la persona totale non è un elenco di cose da fare vado al banco degli abbigliamenti e ho dato da vestire certo anche questo ma prima di tutto parte da una da una concezione più profonda nostra perché se no le altre cose più quotidiane e più non palesi da caritas se possiamo dire così non le facciamo e diventa solo mettersi a posto la coscienza decido che per l'avvento per natale faccio un fioretto prendo gli abiti che non ho li porto lì vado a fare un po' di spesa sul mercato e lo metto al cesto è più profondo è patire nella propria carne decidere di coinvolgersi nel proprio tempo storico come le persone che in questo tempo fanno si coinvolgono in questo tempo storico con le sue problematiche come Cristo si è coinvolta in tutta la storia dell'umanità in tutta la storia si è coinvolto e ha patito nella propria carne del resto anche quelli i maledetti che non si rendono conto ma come non ti abbiamo fatto questo non si sono resi conto perché non si sono coinvolti non hanno sentito non hanno visto non hanno fatto si sono chiusi in se stessi e hanno fatto passare il tempo e hanno cercato dei passatempo perché non hanno trovato il senso della storia rivelata nella croce di Cristo non hanno ritrovato il loro significato come persone e come tutto quello che è la nostra umanità e allora hanno cercato dei passatempo pensate quanto noi ci riempiamo di passatempo per far passare questo tempo che dobbiamo arrivare a quel giorno ma il Signore è duro maledetti non è docile il Signore perché è reale è concreta la vita è buono misericordioso e ci dà tutto ma è anche giusto e veritiero